gestione territoriale del paziente cardiopatico presa in carico responsabilità giuridica del paziente sono i temi trattati nel congresso organizzato dall'asla di bari la cardiologia territoriale del terzo millennio che ha voluto rivolgere la sua attenzione ad una grave carenza in puglia una rete organizzata che si occupi del paziente cardiopatico cronico una tipologia di paziente che necessita di controlli periodici ed una continuità medico assistenziale che non può ricadere sulle strutture ospedaliere non a caso in un momento di risorse limitate con un piano di rientro sanitario in corso di esecuzione la medicina territoriale potrebbe essere un valido supporto ad una domanda di salute che gli ospedali non possono più coprire e allora esperti specialisti medici di base si sono riuniti per evidenziare le criticità del sistema di gestione del paziente cardiologico che richiede un'inversione di rotta ed un impegno a riorganizzarsi cambiamento avvallato anche dall'assessore alla salute tommaso fiore che ha partecipato al congresso e al quale da tempo sta lavorando anna maria de giosa responsabile dell'ambulatorio cardiologico dell'asla di bari che propone un nuovo modello di rete fatto di indici di priorità a cui può far riferimento anche il medico di base di nuove modalità di accesso con la possibilità dunque per il cardiopatico cronico di essere visitato a seconda della sua patologia di base il modello presentato dalla dottoressa de giosa nel corso del congresso è già ben collaudato a trieste come ci spiega il dottor andrea di lenarda dalle nostre parti siamo partiti molti anni fa siamo in una realtà molto diversa dominata dal sistema sanitario pubblico trieste una città di origine austro-ungariche l'organizzazione molto diversa il percorso è lungo ma se nella testa degli uomini c'è questa evoluzione si può praticare servono risorse per migliorare evidentemente le strutture la rete ma i percorsi si creano nella testa delle persone non richiedono particolari risorse richiede la volontà di collaborazione tra ospedale territorio tra varie discipline e se la volontà è questa con l'organizzazione si riesce a superire talvolta anche la carenza di risorse